Una serata in compagnia tra amici ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. È successo domenica notte in località Saletto dove si stava svolgendo la Sagra Paesana. Tutto è partito per un banale diverbio tra un gruppo di giovani della zona. Si è scatenato il parapiglia con spintoni, pugni e qualche tentativo di chiarimento tra i contendenti. Il dissidio sembrava essere rientrato ma successivamente quando i due gruppi stavano rincasando ecco il nuovo scontro originato stavolta da una manovra sbagliata di un'auto che sembrava voler investire uno dei tre giovani. A quel punto entra in scena un 51enne di Morsano noto per il suo carattere irrascibile e violento. Il tempo di sferare qualche pugno e di indirizzare frasi minacciose ai tre giovani prima di riprendere la direzione di casa. E mentre gli stessi giovani saliti in macchina hanno cercato di allontanarsi l'uomo è tornato a farsi vedere in sella la sua bici ma stavolta imbracciando un fucile con canne mozze un'arma artigianale modificata. Si è avvicinato alla macchina dei tre che sono subito scesi e ha sparato un primo colpo alla portiera anteriore lato passeggero poi si è diretto verso uno dei ragazzi gli ha puntato l'arma addosso e subito dopo è corso a minacciare gli altri sempre impugnando l'arma. I tre hanno cercato di farlo ragionare mentre lui ha esploso un secondo colpo sull'auto sempre sulla stessa portiera. I tre sono saliti in macchina e sono fuggiti il tempo di avvertire il 112 e raccontare l'accaduto. I carabinieri hanno individuato il soggetto, lo hanno raggiunto a casa e dopo aver pianificato l'intervento stante la pericolosità della situazione hanno radunato altri colleghi, hanno circondato l'area e con uno stratagemma lo hanno fatto uscire dall'abitazione fermandolo e immobilizzandolo. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati sia il fucile a canne mozze usato per sparare e poi una berretta S55, un fucile monocanna calibro 28, una carabina calibro 22, tutti con matricole a brase, oltre 267 cartucce di ogni tipo e calibro, il tutto detenuto illegalmente. Uno dei fucili è stato trovato anche in una finestra posta sul lato posteriore della casa che si affaccia su un piccolo cortile, aveva il colpo in canna. A quel punto sono scattate le manette.